Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. La festa della mamma si sta avvicinando e questa, così come tante altre, possono essere le occasioni giuste per regalare ad esempio un buono regalo a chi è avvezzo all'uncinetto o ai ferri o comunque a chi acquista sul nostro sito. Parliamo infatti oggi dei buoni regalo. Vi sono cinque tipologie di buoni regalo presenti sul nostro sito. Vediamoli adesso nel dettaglio e vediamo anche il modo in cui riceverete poi a casa questo buono regalo. Poi torniamo con tutte le informazioni utili per acquistarlo e anche per utilizzarlo. Abbiamo buon san valentino, buon compleanno, un classicissimo auguri, Merry Christmas e infine un più generico ma sicuramente romantico love. Vediamo però adesso come verrà ricevuto questo buono regalo. Si presenterà così quindi ripiegato in due con all'interno una bellissima pergamena nel quale verrà posto qui nella parte inferiore il codice del buono della validità di 365 giorni e qualora lo voleste potreste anche apporre, lo vedremo poi successivamente come, la vostra frase che verrà di solito indicata qui nella parte superiore. Legato il tutto con un pratico cartoncino inserito in una busta da lettere e inviato verso la persona che sicuramente usufruirà ed apprezzerà il vostro regalo. Gli importi tra cui potrete scegliere di regalare questo buono sono 25, 45, 75 e 95 a cui poi di solito vanno aggiunti 5 euro per quanto riguarda la realizzazione del cartoncino e anche la spedizione. Potrete scegliere questi importi ed è importante la scelta proprio della somma perché il buono non è divisibile, pertanto se decideste di effettuare o meglio di regalare un buono da 95 euro sappiate che chi lo riceverà dovrà utilizzarlo per intero, quindi tutti e 95 euro. Se invece volete dare una maggiore possibilità potrete acquistare anche più buoni. È possibile scrivere un messaggio, una frase se lo volete ed è molto semplice, la potrete scrivere nel momento in cui arriverete al metodo di spedizione proprio nel riquadro posto nella parte inferiore. In questo modo nel momento in cui vedremo questo buono regalo sarà nostra cura e nostra premura riportare la vostra frase in modo tale che quando questo buono regalo verrà aperto potrà leggere la vostra personalizzazione. Il codice che verrà emesso ha una validità di 365 giorni, un anno, quindi davvero ci sarà modo affinché questo buono possa essere utilizzato. Per utilizzarlo è davvero molto semplice, dovrete o creare un account o semplicemente effettuare l'accesso al vostro account e prima di concludere l'ordine inserirete questo codice all'interno del riquadro con su scritto codice promo, cliccherete su aggiungi e dal totale vedrete l'importo del buono che verrà detratto appunto dalla somma dell'ordine che avrete fatto e poi qualora avreste magari aggiunto qualcosina in più dovreste poi semplicemente pagare la differenza. Insomma il buono regalo sicuramente potrà accontentare tante di voi, magari questo video fatelo vedere anche a qualcuno lì accanto a voi e chissà che non possa essere di ispirazione. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale youtube e di attivare la campanella e noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao! Ciao!